signori e signori bene eccoci ci siamo finalmente è arrivata la mia baby appena arrivata già gli ho strappato tutto immediatamente signore e signori è arrivata la mia scheda video nuova da 148 e pasario consigliata dal nostro valerio della multigaming mi ha consigliato questa bomba non so cosa c'è dentro però già mi emoziona mi emoziona vederla radeon già mi emoziona mi emoziona mi emoziona stavo per dare il via al gioco state of decay mi ho fermato tutto perché ha suonato il postino anzi che farla male la rifaccio anzi oggi pomeriggio la live con una scheda video eccezionale ora questa mia scheda video passerà nel computer di jua ovvero del mi babbo ecco la figura nuova e sono driver e questa è la mia baby nuova certe così grossi tiriamola fuori delicatamente oddio sento già gli apparecchi elettronici madonna ragazzi madonna la plastica ce la lascio direi di no mi amici da tirar via la plastichina oddio ragazzi tanto di ventola apparecchiatura elettronica e tutto quello che si può bere certo che lascia montare e prepariamoci al montaggio della scheda video signori e signori ci vediamo oggi alle 14 sicuramente su state of decay ma se 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 la mia che smonto funziona correttamente anche nell'altro computer ci potremmo vedere anche su desi in compagnia di lady chris potrebbe essere non è sicuro perché c'è mio padre a casa che usa il computer signori e signori direi di andare a provarla immediatamente quindi adesso smonto la mia scheda video e vado a montarmi questo signori signori a tra poco ciao ciao